c'è bisogno dei crediti vai su vipscoinsfifa.com con il codice coupon malati15 riceverai il 5% di crediti in più e versi a tutti ragazzi con him e bentornati al canale di noi malati di foot oggi sono qui a portarvi questo pack opening da 100k in cerca di Wayne Siff e degli altri giocatori del team of the week come John Terry, Hernanes, Witzel, McCarthy e Lavezzi sperando di trovarne almeno uno e di non trovare Scarione o chi quant'altro con questo primo pacchetto andremo a vedere chi sarà il predestinato ed è Team Howard Team Howard come ragazzi Team Howard adizione Team Howard, Team Howard, Team Howard, Team Howard piatti i piatti stanno della in cucina però eh primo pacchetto un po' una cagatina quindi se rifiamo sul secondo con David Alaba il finto austriaco, il finto tedesco, il finto non so che cosa, il finto lo stesso troviamo un manga là, il nero dal gazzo grosso secondo pacchetto uno schifo, non c'è due senza tre invece non c'è tre perché adesso David Alaba ci farà uscire un cazzo di giocatore un forte lo stesso come... oh e adesso... Sain Navarro Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Manzukic Manzukic è questo Manzukic Te Tei Te Manzukic non va bene iniziamo a andare male eh allora Lionel Messi il tandem argentino Higuain Messi attacco dell'argentina con Tevez a sostegno e allora troviamo ma perché mi fai trovare Erkin ma chi cazzo è Erkin quest'altro chi è Mokotoyo 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 ma cosa è successo Mokotoyo Badej ma chi sono sti giocatori sti africani e vabbè e allora me l'hai chiamato Higuain Higuain sul pacchetto Higuain come carta SIF che vaffanculo che cazzo è sta gente questo che è morto sta più di qua che di là questo che facevano prima a fare una foto bianco e nero a sto punto era già morto 1989 il start lo con sta barbettina a capretta ma che è eccolo è di Nino ed è di Nazard ed è di Nazard lo chiama lo chiama proprio lui ed è Nazard Chelsea che vince la Barclay Rosissi ma perché mi fai trovare sti persone che non servono un cazzo su FIFA Bennett Bennett cosa ancora Ari ma vai via fricanaccio adesso mi accengo a fare il solito video che faccio sul mio canale e vediamo se porterà fortuna anche qui ma vediamo 3 2 1 no 3 2 1 che gulasso che gulasso che gulasso dai dai alabba strotman non mi pare destacchia della luna ho sbaglio Lionel ce l'ho con te argentino ce l'ho con te se te che mi devi dare una risposta a questo pacchetto dai Lionel Sissoko Sissoko mamma mia Fernandez Rudy due portieri in un pacchetto rimangono 4 pacchetti alla fine di questo pack opening riusciremo a trovare un giocatore alabba me lo sto chiedendo con te me la prendo con te se non trovo qualcuno alabba per favore fammi trovare qualcuno team Howard il barbone che non mi ha mai fatto trovare nessuno vediamo se questa volta mi farà trovare qualcuno impreghiamo qualcuno impreghiamo qualcuno over e io qui non credo che sia una coincidenza che mi capita Iguain e Messi quindi qui se fuori da sto pacchetto non mi esce Iguain a me me cazzo no ma perché non è possibile non è possibile dire che lì non mi fa sci fuori va bene Lambert il tabba no ma chi è talebano no Talambo ma chi cazzo sei ma chi sei ultimo pacchetto con Antoine Griezmann vediamo se Antoine Griezmann ci porterà fortuna dai Antoine dai francesino dai Antoine Talisca Talisca che cosa Talisca io non capisco un cazzo con Talisca madonna oh madonna proprio Talisca di merda che dire per questo pacchopening è tutto io spero che questo pacchopening vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like un commento qua sotto e ti muore faccio trovo qualcuno ce va trovo a Fernandao Fernandao ma chi è Transat sotto casa ma chi è Fernandao ma dai e allora ragazzi anche se non abbiamo trovato nessuno spero che questo pacchopening vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like un commento qua sotto rimanete sintonizzati vedete che sotto al periodo dei tos arriveranno pacchopening a go go altri 2 milioni cap a pacchopening che cazzo con 2 milioni troviamo manco un giocatore in forma no non è possibile quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e mi pare di aver detto tutto ed Enigma è tutto e Fernandao è tutti ragazzi mi dobbiamo metterla per forza perché sennò qua mi mandano lì sotto casa mi mandano lo famo uno strapparegola dai 7500 così dai dai alabba 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 Fernanda non c'è credo l'altra volta il trance l'immortacci tua